Nella trasferta di Rogno, sotto i tre reti, le formazioni top junior da GS Darfo riesce nell'impresa di ribaltare il risultato tenendo proprio allo scadere i primi tre punti della stagione. Decisamente meglio i ragazzi del centro giovanile Rogno nella prima parte del confronto, la doppietta realizzata da Malik Samba con un preciso colpo di testa e con una conclusione ravvicinata, sono la giusta ricompensa per il bel gioco e la grinta messa in campo dai padroni di casa. A queste due reti si aggiunge il gol realizzato al ventesimo minuto da Andrea Vispa. In difficoltà i ragazzi di Darfo che non riescono a prendere le misure degli avversari e si rendono pericolosi solo su alcuni calci di punizione. Allo scadere arriva la rete di Mattia Bettineschi che rimette in discussione il risultato. L'atteggiamento degli ospiti è decisamente diverso nella ripresa. I Darfensi aggiustano le marcature in difesa e ora attaccano con maggior continuità. Al quinto minuto Stefano Macario riduce le distanze e dopo alcune opportunità neutralizzate dalla difesa avversaria pareggia i conti al sedicesimo. Il rogno perde l'incensività del primo tempo e pensa soprattutto a difendere il vantaggio affidandosi ad azioni in contropiede che non vengono però concretizzate. Così a un minuto dal termine su calcio piazzato è ancora Macario a trovare lo spiraglio giusto portando in vantaggio la propria formazione. C'è poco tempo a disposizione. I ragazzi di casa che comunque ancora ha l'opportunità per pareggiare ma la conclusione da posizione favorevole finisce sopra la traversa. Bella partita tra due formazioni molto giovani e l'esordio nel torneo top junior. Il rogno dopo un ottimo primo tempo nella ripresa ha pensato solo a difendere il vantaggio regalando spazio agli avversari e perdendo un punto probabilmente meritato. Il darfo quando sembrava difficile recuperare lo svantaggio ha reagito con grinta raggiungendo il primo successo stagionale.